Eccolo, eccolo, in diretta qua, piana pia pia Vai Edo, farlo saltare, non ce l'ha mangiato in diretta ragazzi, guarda che cazzo duro qua, tanta roba Guardate che cielo Eccolo, le fasi iniziali del combattimento, adrenaliniche Team Pax, eccolo, ma che bello Mi aveva appena mangiato la coda del Fat Boy E gli ho detto, Edo lancia che lo prendi, infatti è subito incappato Bene ragazzi, per uscite guidate col Team Pax, 50 euro Che bellino Eccolo, i classici avvolgimenti della morte Eccolo, ma che bel peso Questa, bellino Grazie a tutti. Guarda come si finisce in acqua. E l'hai preso bene. Eccolo. Facciamolo vedere. Io non ho neanche messo la canna in acqua e lui è incappato. C'è un'esplosione. C'è un'esplosione identica a quella curiosa 20th-century che è un'esplosione. È un'esplosione. È un'esplosione. È un'esplosione. È un'esplosione. È un'esplosione.